Un grandissimo autore, autore della Romagna che tra l'altro mi accomuna perché suonava la fisarmonica anche lui. Mi riferisco al maestro Tiberio Marani. Qua tra il pubblico abbiamo anche il figlio, Lionello. Lionello, alzati in piedi, fatti vedere. È stato un altro grandissimo maestro che ha contribuito così a fare crescere la nostra musica, la nostra tradizione e la nostra cultura. Vogliamo omaggiarlo con un classico, conosciutissimo tra l'altro, forse il più conosciuto. Non nella versione che ho fatto io per due fisarmonica ma nella versione con tutta l'orchestra. Questo è meraviglioso per tutti voi. Non nella versione con tutta l'orchestra. Non nella versione con tutta l'orchestra. Non nella versione con tutta l'orchestra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.